Ciao ragazzi, torniamo ancora con una nuova intervista, stavolta di livello incredibile perché la scorsa che ho girato, sempre appunto al IV Convegno Nazionale di Etologia di Allevamento dei Pappagalli si è tenuto a Civitavecchia lo scorso 7 ottobre, ho intervistato Pierluca Costa dell'Università di Torino trovate qui appunto l'intervista che gli ho fatto, molto interessante questa volta però vi propongo un'intervista di Irene Pepperberg che è una pioniera degli studi delle facoltà cognitive sui pappagalli una che ha lavorato per decenni appunto a contatto con i pappagalli, in particolar modo con Alex in sostanza Alex era un pappagallo cenerino, dalle facoltà pazzesche insomma i suoi studi sono stati importantissimi per capire come è cambiato il modo di pensare riguardo le facoltà mentali appunto degli altri animali è stato un onore intervistarla quindi ringrazio anche la direzione, insomma lo staff dell'evento che insomma mi ha aiutato, ripeto è stato veramente un bel evento, molto valido con tanti relatori di alto livello, lei però è comunque affermata a livello mondiale quindi è diciamo, forse non la conoscete però ve lo dico io, è una big assoluta insomma quindi è stato veramente un onore per me poterla intervistare in inglese, l'ho intervistata quindi insomma diciamo che con l'inglese me la cavo però non vi aspettate un madrelingua perché sennò rimanete assolutamente delusi quindi io però ci ho messo, ci ho fatto il mio meglio insomma quindi spero che si veda detto ciò, una cosa sulle luci che ho detto anche l'altra volta non avevo purtroppo la possibilità di portarmi dietro due faretti anche perché non li ho per illuminare meglio la faccenda perché appunto l'ho fatto a fine convegno quindi non solo c'era un po' di casino nella sala quindi siamo andati nel corridoio ma non c'era neanche tantissima luce quindi insomma vi prego di essere clementi sotto questo punto di vista ma non è che potete portarmi un facchino con tutte le mega attrezzature per poter fare l'intervista però l'audio si sente benissimo quindi insomma io vi lascio senza indugio all'intervista, vi dico se volete recuperarvi, volete sostenere scusate, la mia attività di divulgazione su youtube trovate in descrizione il link di paypal per poter fare una donazione libera quindi detto ciò senza indugio vi lascio all'intervista e fatene tesoro perché è una intervista che insomma per l'alto livello che ha non vi capiterà penso di vedere tanto spesso su youtube in canali di questo tipo quindi insomma nel senso che è uno non sta con onore, l'ho già detto, lo ridico Ok, siamo nella quarta parola di parola di conservazione nazionale in Civitavecchia in Italia con Irene Pepperberg, professore di psicologia e lettura di Harvard University grazie molto per il vostro tempo, sono molto felice di aver accettato di essere intervistati mio inglese è perfetto ma io prometto, grazie molto, io prometto che farò il mio meglio abbiamo solo questo microfono quindi faremo un po' di ping pong quindi la prima domanda, vostri studi sono molto importanti perché sei uno dei primi scienziati che cercano per avanti abilità cognitiva in animali che non erano primati non sono animali e questo è molto importante perché noi normalmente definiamo l'intelligenza utilizzando solo noi come riferimento beh, noi ancora usiamo noi come riferimento, solo mettiamo i bambini nel pool il vostro esperimento principale in termini di importanza e di tempo era quello che riguarda Alex, un africano grigio di parola, era un parola speciale perché ha dimostrato dell'intelligenza è solo uno dei possibili dell'intelligenza di animali ma non era un speciale avian Einstein, era un speciale perché era un singolo bambino e possiamo potremmo tutto il nostro attenzione sui per i primi 15 anni di vita primati o parodi, anche ragazzi, oltre 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 oltre, sono molto smarte animali che potremmo uscire come molte volte l'intelligenza può occorre durante l'evoluzione indipendentemente in molti gruppi di animali che sono solo distanti relazioni di uno per l'altro quindi, era Alex un nome casual o ha un significato particolare? l'abbiamo capito, è un'esperienza di linguaggio di avian l'experimenti Alex, infatti, è stato riuscito, è stato riuscito e lui era 31 anni, e l'African grigio di captivity ha avuto un livello di 60 anni ma quando si è passato, molti persone che non erano in particolare in scientific research che ha mostrato un amico autentico per lui e il suo lavoro. In questo senso, perché Alex non era solo importante in un modo scientifico? Sì, ha toccato un numero di persone molto profondamente. Abbiamo avuto tassi e tassi di lettere, tassi di tassi di e-mails. Era quasi così traumatico che il suo passaggio. E quanti parole sa e capisce? Perché non imitare i suoi soni e si discriminava le forme, le forme, le materie, i numeri, anche il zero. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Si, si. Si. Si, si è quantitativo da take forme, sia anche delicaggio del tipo di Sleeping, che ha Dimitare un concetto di ballots. Departure parti di linghi, ulteri, circa belliss ovviamente. Ma cosa att payoffa perché sono det aussit段ata cheちゃ aquela storia, che riguarda come al basilico della color, hanno filic cautionta o colore. E poi questo Constitutione, dove capire un carino, colore, branooria, ovviamente pöstere, mangi 형amente tutto il caso. così, quindi capisci queste. E poi potete comprare i compagni, quindi potete chiedere quale è stessa o quale è diverso. E pensi a dirlo, stessa colora, stessa forma, ah, stessa colora, stessa colora, e potete dire cosa stessa stessa e stessa. Ha stato il primo animale non-humano a chiedere una questione esistenziale, non è? Beh, dipende su quello che vuoi dire con una questione esistenziale. Sto parlando a quale coloro sono io. Sì, ha detto che coloro in il mirror, e facciamo l'assumzione, ma ha guardato e vede questa colora in il mirror, e ha detto che coloro. Sì, Alex era un pyrote molto smart in il lab, ma non era l'unica, quindi cosa per Griffin? Cosa può fare? Griffin ha fatto un lavoro molto fascinante, ha fatto alcuni studi sui studi, quindi l'idea quindi negli ultimi di sottotitoli, se facessi il primo piatto, si vede la donna, se accessi il dipende, se gale la donna, se accessi il lì, se accessi il badoo, l'altro, c'è lì, si accettavano l'unica e lì, no nessuno si accettavano. E ha impianto, quello选o il grano, quando lavorando con gli studenti, perché gli studenti si appartano e ha impianto, e超ò come questo lo stesso che ho fatto. He did a study on inference by exclusion, which is basically learning where to find a treat by being given information about where it's not. He learned a interesting... It sounds very simple, but it's actually a complex task. So you have two strips of paper. One is black, one is white. And there's a nut on each of them. If you choose the black one, you get to eat both the black and the white. If you choose the white, you only get to eat the white. And a lot of animals have terrible problems with this. In fact, the apes did. But he figured that out very quickly, he and some other birds. We've done Piagetian liquid conservation, which is when you have two... I show you two glasses with equal amounts of water, and I ask you what you want, and you laugh, and you say, well, they're the same. And so will a young child. But if a child is about five years old or younger, when you pour one into a tall, thin glass and one into a short, fat glass, and you ask the child what they want, I want the tall, thin one. Why? Because there's more. But you say to the child, you just told me they were the same. And the child says, no, now there's more. Where it's only when a child is much older, they'll say, well, the tall, thin one is more fun to hold. But they're the same. And Griffin figured that out as well. And this probability study where he matched the probability of the population of objects. So you put three of one thing and one of another thing in a bucket. You mix it up, and you take your hand, and without showing him what's in your hand, you ask, what do you think is there? And he tracks the majority-minority amounts. So there's lots of things that Griffin's been doing. Optical illusions. He's also been able to do... He sees optical illusions the same way we do. That's great. Because parrots are birds, and birds are dinosaurs. So dinosaurs are so smart, at least in one case. So I imagine that you fought a lot to get your results accepted to scientific community. Because we were in the 70s, and studies about animal language and intelligence were at the beginning. And you were a woman, and sadly women are often discriminated in scientific research field. It was very, very difficult. There were many times when I was the only woman in the conference, the only speaker in the conference who was a woman. There were so many times where people just outright said, well, you can't, you must be making up your data, because birds can't do things like that. It took a long time. And the best thing was that, well, it starts, my first grant proposal came back, literally asking me what I was smoking. And 20 years later, I gave a talk, and I mentioned that at the beginning of the talk. And at the end of the talk, one hand goes up and says, this isn't a question, this is just a statement. I was the person who said that, and I was wrong. So that was very, very nice. What about now? What kind of research project are you planning? Okay. So we're extending the exclusion study to four cups, and Griffin has actually passed that. We're doing a few more controls. We're doing the next stage of liquid conservation, what's called an over-conservation task. We've got a young bird, Athena. We're teaching her her labels, and we're going to try to do a string-pulling task on her, seeing if she can figure out if we suspend a treat on a long string, if she figures out how to pick it up very quickly. We're doing some other work on, it's kind of complicated to explain, but it's a categorization where you choose that something is either in one group or a bunch of things are not in that group. So it's called A, not A, and then you give a totally different object, and you want to see if the animal understands the concept fully enough to put it in the not A group. So we're doing that now. So today, many species of parrots are at risk of extinction. Is scientific research focused on bird intelligence useful to learn something that might help us to reverse this trend? Well, yes. It's people like to conserve things that are close to them, that either look like them or think like them, and the idea is that birds don't look like us in any way, but if we can show people that birds think like us, it makes people want to support them and to conserve them more likely. It's a hope. So in Italy, only the book Alex and Me has been translated and published, but nowadays it's very hard to find. I've been looking for it, but I failed. I wanted a second copy. I hope that publishers will make a new edition for Italian audiences in the near future. Write to the publisher and tell them, because otherwise they won't know. I'll try. Would you like to talk about something else in particular? Oh, I just want people to understand how smart these birds are and that to be a pet companion, it's not enough to have the bird in a cage for eight hours a day when you go to work. You have to have a lifestyle where you work at home or you can take the bird with you or something like that. These are animals that live in a flock. They live in a complex society. And even if, I mean, it's good to fill the cage with lots of toys and things like that. Sometimes people say, get a second bird. But, you know, how close are you to your college roommate who was chosen for you? You know, maybe you'll get two birds who don't like one another. Athena and Griffin, they tolerate one another, but they don't like one another. You know, if Athena gets too close to Griffin, he gives her a little beak whack. Very gentle, but, you know, you're in my space. So, you know, it's really important for people to think. And these birds live so long. I was once visiting to give a talk somewhere, and I was told that, you know, the Brooklyn Borough President wants to see you. And I'm going like, why? Well, his in-laws were 78 years old and bought a baby gray. And now, guess what? The Brooklyn Borough President has this bird because the in-laws passed away. And this bird was only three years old. I mean, you can't, you have to think about when you have them. When you have them, you have to plan what happens if you can no longer take care of them. Is there somebody in your family who will take care of them? Who wants to take care of them? Not just, oh, I'll put up with the bird because it was Aunt Sophie's. You know, these are things that they're so long-lived and they're so smart. You have to think about that when you get one of these birds. Otherwise, you don't get a pet parrot. I agree at all. So, thank you so much. And good luck for your studies. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie a tutti.